Hi guys, siamo qui al Tempio del Baseball americano, mi chiamano Yankee Stadium Red Sox, Boston, al Chicago Cups. Grazie, è stata una bella esperienza dentro, è stata una bella esperienza dentro, e ti è piaciuto di questo campo? Osserviamo Gio Santo, si ha Gio Santo, Bullo, Billy Williams e Gio Santo, dei campioni degli anni 70 e degli anni 50, comunque questo è Sherpt West Avenue, attraversiamo, non ci so certo, non so. Andiamo a fare qualche acquisto, ando, ci riporta l'Italia. Vedi? Ah, come fai, ci cagano Bulls? Dai, già fai un po' di shopping, see you.